Ciao a tutti In questo video ho avuto un'auto con il mio go kart perché sapete che mi piace il go kart mi piace il unico e special car il carico esotico quindi facciamo un'auto con il mio go kart in la città e sulla pia andiamo a trovare i miei amici sulla pia quindi il nome è Dinka Veto Classic ah oh oh la oh ma questa è una città c'è da ammazzarsi e poi sulla strada normale respiri i fumi delle marmitte delle macchine ormai non ce l'avessi perché davvero vado a giro con questo sarebbe troppo forte se vediamo se ho fatto questo in real life e i drive in the small town Ehi Let's go in the beach 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 PAPA PAPA said Sure, make a photo of me Yeah Hi lady Oh, there is a water Yeah abbiamo bisogno di essere becchiati ci sono alcune persone qui, se mi ricordo bene ora facciamo un cammino con il carto e vi mostro un paese Nella realtà non va mia nella sabbia, ma nemmeno questo, nemmeno le macchine normali, nella sabbia sprofondano. There is no people here to do the beach party, ah, there is no one, unfortunately. Ma non mi ricordavo che ci fosse questo sprofondio, oh Dio, dai che sprofondo lì. Addio, non avevo visto che c'era cosa, diciamo a modino perché non voglio mia spaccare gokart, I want to be careful because I don't want to broke the gokart, ok, make a photo, yeah, hey guys, there is other two people here, everybody wants to do a photo? There is someone up here. Ok, let's take a look. Hey. Hey lady. How are you? Let's take a look here where we go. ce la farà il gokart a fa questa salita qui, oh. Ce la fa. Beautiful landscape. indaganzo l'effetto delle onde viste da lontano. Ho davvero fatto un bel lavoro con la grafica del gioco, impressionante. indiscesa a peso morto, ma da solo. indaganzo lì. indaganzo lì. The part of this beach is end. I wanted to show to you the other part because normally there is a gathering on the beach di persone, una scuola di persone con la moto cross bike, credo sia il nome corretto, non non mi ricordo. no hey man oh yeah comincerà a piovere proprio quando voglio fare video non è mica che comincerà a piovere oh c'è la gente, guarda l'allegamento della piazza il go kart è pieno di sabbia hey man how are you? hey laddie ok yeah i think i'm a guy like these people beach guy and small town guy it's nice to not be at work for once today I'm alright how's it bra? I'm about to make the top 20 people watching the media industry and I'm actually doing better than ever in this recession so you can say I'm doing fucking great let's show the other side of the beach let's show the other part hey hey people hey people hey hey I'm gonna leave it let's give it an a minute oh no let's go let's go o meno male funziona sempre e i ledi there is a some beach people who drive this this Seashark the name I show to you this is the Seashark and this is the Seashark and this is an Anke Gabbiani the Seashark the Seashark the Seashark Ci sono alcune persone qui. Amen. So, to go to this part of the beach I have to go here, I can't do here because there is some rock, so I do this for go to this part of the beach, this is the gathering of the people who drive the motocross bike. This is like a circus circuit for exercise. So, this is the other part of the beach because here there is the rock and we can't go here. I showed to you the gathering of the motocross bike. Very beautiful beach. Ah, yes, I can't go here because there is the rock. I have to go on the other side here. I forgot. So, we go here and there is the gathering of the people who drive the cross bike. Hey people. Hey laddie. This is people like beach people I showed before, this is the drive motocross bike. 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 Is it the drive motocross bike? This is the drive motocross bike? I did. This is the drive motocross bike. This is the drive motocross bike. This is the drive motocross bike. It's swinging though the hivt肉 tournament with people. hey lady hey guy and so this is for sure a drive with the go-kart and some part of the beach so I don't add other things to say and 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 Grazie